Un aeromobile senza pilota, dotato di otto motori, controllato da un microcomputer situato a bordo, manovrato da terra dove verranno trasmesse in diretta le foto, i video e le informazioni del volo effettuato. Così avverrà il monitoraggio della pulizia della zona artigianale di Molfetta, grazie all'ausilio di questo drone, messo a disposizione gratuitamente dall'associazione Mungo Fly. In queste ore il controllo preventivo delle aree da monitorare e l'individuazione dei punti più difficoltosi di intervento da raggiungere. Verranno effettuate delle semplici riprese in luoghi non immediatamente accessibili all'uomo o difficilmente accessibili all'uomo e attraverso poi l'analisi di queste fotografie si utilizzerà poi questa analisi per accedere a quei luoghi ed effettuare ulteriori interventi di pulizia. Con i suoi 650.000 metri quadri e le 105 aziende insediate nella zona artigianale problemi come la pulizia e il decoro erano praticamente all'ordine del giorno. In questo modo il comune di Molfetta intende venire incontro agli imprenditori che quotidianamente si trovano a combattere con questioni di questo tipo.